Grazie. Va bene, mi piacerebbe appoggiarli qua, vediamo se tiene, beh, allora, certamente vi verrà dato questo tema, no? Da Caporetto a Vittorio Veneto, quindi è tra i tanti anniversari possibili, tra i tanti temi che potete immaginarvi, questo c'è. Naturalmente le previsioni le fa anche il Ministero, per cui è tutta una lotta, io so che tu sai che gli sa, per cui che cosa alla fine salta là fuori, ma questo è uno dei possibili. A parte gli scherzi sul tema, è davvero un anno chiave della storia dell'Italia. Io non so in quale misura, non tutti voi, ma ciascuno di voi, trovi ragioni di medesimazione nel paese in cui è nato, ma ipotizzando che sì. Che voi non siate prigionieri di un individualismo ombelicale, che riconosciate cioè che si è quello che si è, ma anche all'interno dello spazio, di un tempo. Che in parte ci determinano e ci fanno essere quello che siamo e in parte sta naturalmente a noi invece innovare, cambiare, accettare. Ognuno di noi vive in uno spazio, in un tempo. Ognuno di noi è un testo, in qualche modo, dentro un contesto. Bisogna conoscerlo. Ma conoscerlo addirittura con la storia. Oggi non è di moda la storia. L'ultima università in cui ho insegnato, che era quella della mia città, a Foscari di Venezia, il dipartimento era un grande dipartimento di storia quando i colleghi hanno deciso di chiedermi se volevo da Torino passare a Venezia. Che era Torino. Ci stavo benissimo. Altro grande dipartimento di storia. Però sono veneziani, i veneziani sono molto attaccati alla propria città. Tutti lo sono, ma insomma, in modo particolare. Quindi a questa richiesta non potevo assolutamente dire di no. Beh, quel dipartimento era un grande dipartimento. Diciamo all'altezza di cui è di Bologna. Credo che fossero questi i due o tre milioni d'Italia. Non c'è più. Non c'è più. Non esiste più un dipartimento di studi storici. Tutti i vecchi dipartimenti, cioè i settori specifici, di area disciplinare, sono stati riuniti in un unico dipartimento che si chiama dipartimento di studi umanistici. Tutto. E nulla. Piccolo segno, che naturalmente mi ha colpito, visto che ci ho insegnato per vent'anni, piccolo segno che oggi la storia interessa a pochissimi. Perché viviamo nell'oggi. C'è chi parla di presentismo. Quando c'è un anniversario, e noi siamo in pieno anniversario della prima guerra mondiale, siamo appena usciti dall'anniversario di Caporetto, siamo appena entrati all'anniversario di Additore Ovento, le istituzioni si svegliano e dicono, c'è un anniversario, bisogna fare un convegno, bisogna fare cose, bisogna fare questo, quello. E allora gli studiosi che si sono occupati di quel certo argomento vengono presentati e girano. Io giro come una trottola. Perché nel 2011 c'era il centocinquantenario dell'Unità d'Italia. Per fortuna, perché io ero in Gramaglie, perché ero uscito nel 10, pensionato, e sapevo che mi sarebbero mancate le lezioni, il contatto con voi, cioè con altri voi, ma insomma con altri ragazzi. Per fortuna, colpo di fortuna, anniversario dell'11 e anniversario del 14-18. Non sono ancora uscito l'anniversario e quindi dà l'occasione di andare in giro a fare teatro, perché questo è teatro in fondo. Le cose che io leggo e scrivo danno luogo a articoli, a libri, ma a me non è mai bastato. Io ho sempre voluto collaudarli mentre nascevano e poi comunicare il risultato dei miei ragionamenti a un pubblico. Per molti anni questo pubblico sono state le mie classi, prima quando insegnavo italiano e storia nelle magistrali e poi nei tecnici, perché per 15 anni ho fatto insegnante italiano e storia, e poi l'università di Padova, l'università di Torino, l'università di Venezia. Grazie agli anniversari, adesso mi inventerò qualcosa perché la fine del 18 finisce, ma c'è il dopoguerra, andiamo verso la marcia su Roma, qualche cosa penso di inventarmi. In fondo ho studiato anche il fascismo, non mica solo la prima guerra mondiale. Bene, questo anno qui è importante. Se voi, come è probabile che sia, vi sentite tutti dentro al presente, all'oggi, al vostro presente, è probabile che di guerra, questa guerra ma in generale, non ne vogliate sapere. E non siate affatto disponibili ad accettare che molta gente nel 1914, in Europa, molta gente nel 1915-18 in Italia, invece quella guerra la volesse fare. Non tutti, eh? Non sto parlando di unanimità, me ne guardo bene. Anzi, io sono partito, tanti anni fa, proprio dallo studio di Caporetto, dall'eventualità di un no alla guerra, perché Cadorna, il Generalissimo, accusava i soldati di avere volutamente buttato il fucile. Parlando di tradimento, di disfattismo e così via. Non era così, le cose erano diverse, più complicate. Insomma, io sono partito da questo. Non è che io sia insensibile personalmente all'obiezione di coscienza rispetto alla guerra. Però, avendo fatto di mestiere dello storico, sono anche sensibile a quello che erano loro cento anni fa. E allora mi chiedo, ma loro erano tutti contro? Ma se erano tutti contro, com'è che l'hanno fatta questa guerra? Vuol dire che perlomeno c'erano i sì e c'erano i no. Allora, perché c'erano i sì e perché c'erano i no? Quali sì e quali no? Di questo vorrei parlarvi. Caporetto. Cos'è Caporetto? Dal 24 ottobre del 17 al 9 novembre del 17. Quei 15 giorni lì. Prego. Laggiù sentite o no? Ah, io non me lo dite. Ah, avete mandato lui. A chi parlo? I muri. Se riesce a parlare un po' più vicino. Non lo so, non lo so. L'oratore si muove, svaria, gesticola. No, che oratore è? Però, insomma, se non sentite proprio... Non lasciatemi parlare a vuoto. No. No, perché allora si allontana ancora di più dalla bocca. Mi scuso, ma è così. Dunque, sono 15 giorni decisivi nella storia d'Italia. Dal 24 ottobre al 9 novembre. Il 24 ottobre comincia l'avanzata degli autro-ungarico tedeschi. Attenti, ho detto tedeschi. Poi vi spiego perché è importante. Il 9 novembre l'esercito italiano si assesta su una nuova linea, sul nuovo confine, avendo perduto molti chilometri. Cioè sul Piave, sul Grappa, sul Montello. Non solo. In quel 9 novembre c'è anche il cambio di generale. Da Cadorna a Diaz. Non è una piccola cosa. Perché la gestione Diaz sarà, adesso non voglio dire più democratica, ma Cadorna non sapeva cosa fosse il morale delle truppe, dei civili. Diaz sì. E quindi si preoccupa che il morale, cioè quello che pensa la gente, come reagisce, venga curato. Con parole e fatti. Con fatti e con parole. Di questo dobbiamo parlare attraversando il 1918. Voglio, per me è tutto, darvi qualche elemento fattuale sulla portata del disastro in quegli ultimi giorni di ottobre. E' una delle armate dell'esercito italiano che viene investita, che fa Caporetto. E' la seconda. Quella comandata al generale Capello. Caporetto, Tolmino, Plezzo. Sono diversi nomi che si potevano dare la stessa cosa. Si è imposto Caporetto. Sono località a poca distanza l'una dall'altra. Il 24 ottobre l'esercito italiano non l'intero, non tutti compresi i servizi, eccetera, ma l'esercito combattente in quel momento lì è di 1.800.000 uomini. Il 9 novembre, 15 giorni dopo, sul Piave, Grappa e Montello, è di 700.000. Dunque la metà si è persa per strada. Tra prigionieri, 300.000 ed oltre, e altre tanti circa sbandati. Ci vorranno mesi per recuperare una parte di quel milioni che avevano composto la seconda armata. Per il momento bisogna basarsi sulla prima, sulla terza. Cioè su quelle che non hanno fatto Caporetto, ma hanno ricevuto l'ordine di ritirarsi. La ritirata ha coinvolto tutto l'esercito, anche se la rotta, rotta non è ritirata, voi capite che è ben diverso. Il resto dell'esercito riceve l'ordine di ritirarsi. E lo fanno più o meno a malincuore, perché magari non capiscono bene, ma come, ma perché? La rotta riguarda una certa parte di un vastissimo territorio e riguarda la seconda armata. All'inizio, nella terza armata, nella prima, non si capisce bene perché si debbano cedere di un tratto terreni che sono costati tanto sangue, tanta fatica. Ma naturalmente un esercito è una macchina complessiva e se gli austro-ungarico-tedeschi penetrano in profondità per arrivare fino al Piave, non è possibile che le altre armate rimangano come aggrappate al vuoto. Molti hanno ritenuto che nel male degli errori che anche lui aveva compiuto, Cadorna sia stato capace di qualche bene, cioè che in fondo la ritirata non sia stata condotta così male. Per quanto era ritirata, cioè le altre armate, non la seconda. Perché la seconda non è una ritirata, è qualche cosa di molto più disordinato e confuso da cui appunto escono quelle centinaia di migliaia di sbandati di prigionieri che vi ho detto. Allora, dovremmo esplorare nell'ora circa di tempo che abbiamo come mai metà esercito riesce a resistere mentre l'intero esercito si era fatto sfondare. ma una prima ragione è questa che il confine da difendere è molto più corto a questo punto. Ci sono molti meno chilometri da presidiare e quindi anche i soldati sono meno lo si può fare. Poi la guerra è diventata difensiva si muore meno che quando si va all'attacco e poi tutta una serie di altre ragioni. Un'altra cifra che parla da sola il 24 ottobre erano 67 le divisioni italiane adesso lasciamo perdere che cosa vuol dire divisione è un reparto molto grande ce ne erano 67 e si scende a 38 in 15 giorni quindi insomma è un cambiamento radicale dobbiamo cercare di capire adesso in questo po' di tempo perché è avvenuto più grave è quello che avviene in quei 15 giorni più mirabolante è quello che avviene nei mesi successivi cioè perché dopo che l'Italia ha fatto caporetto l'Austria-Ungheria fa caporetto in modo definitivo e cioè perde la guerra perché alla fine succede questo che l'Italia perde una battaglia grande importante ma perde una battaglia e vince la guerra e viceversa l'Austria-Ungheria vince una battaglia e un anno dopo perde la guerra e questo il problema che abbiamo di fronte questo problema c'è da 100 anni perché sconfitte militari le capitano a tutti gli eserciti e se si va in guerra è ovvio che non si può sempre vincere ma questa la si chiama subito disfatta disfatta è molto di più disconfitta allora dividerò il mio discorso in tre grandi momenti uno è quello di cui ho già cominciato a parlare al piave questi 15 giorni che conducono fino al piave e al grappa il piave riassume con il luogo simbolo la resistenza primo secondo battaglia del sostizio o di giugno o di nuovo del piave siamo a metà giugno del 18 è una battaglia decisiva quasi quasi più importante della battaglia di vittorio veneto perché è l'ultimo tentativo che l'Austria può fare per sfondare e non sfonda quindi perde perché la sua vittoria sarebbe stato riuscire a passare il piave non passandolo ha perso non che a metà giugno del 18 gli italiani riescano a invertire la direzione e a riprendersi il terreno perduto però non lascerlo passare e questo è decisivo poi vi spiego perché il terzo momento è naturalmente il vittorio veneto di cui pur dobbiamo indagare la natura perché a lungo in Austria hanno messo in dubbio addirittura l'esistenza della battaglia di vittorio veneto allora che cosa è successo tra il 24 ottobre e il 9 novembre che cosa è veramente successo e che cosa è veramente successo quali sono i fatti veri di una catastrofe come caporetto perché la verità dei fatti è di due ordini ci sono i fatti 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 concreti le cifre quanti bisognieri quanti feriti quanti morti sì ma non è che queste cose si possono sapere il 25 26 27 ottobre chi le sa queste cose ognuno vede quello che vede cioè vede alcune decine centinaia nel giro di giorni alcune migliaia di persone ma l'orizzonte la visione è complessiva non c'è nessuno ce l'ha aggiungeteci la censura non solo non si vede non si capisce ma se anche si vedesse non si potrebbe dirlo prendete i giornalisti teoricamente era loro a dover raccontare al popolo che cosa stava succedendo ma questo non avviene assolutissimamente dovete sapere che il cuore pulsante della volontà di fare la guerra è il Corriere della Sera anche allora è il principale quotidiano italiano è il principale quotidiano della borghesia della classe dirigente ha un coproprietario che è anche il direttore un grande giornalista di nome Luigi Albertini grande è la potenza stiamo per dire di fuoco in qualche modo simbolicamente parlando del Corriere Albertini ha la possibilità di reclutare per il suo giornale milanesi i principali giornalisti e i giovani più promettenti e quando avviene la guerra Albertini è per la guerra con più fuoco con più determinazione del governo liberale conservatore che c'è in quel momento che è il governo di Salandra presidente del consiglio e Sonnino ministro degli esteri è la destra del partito liberale che governa mentre Giolitti la sinistra ha avuto il torto di farsi trovare non al governo proprio al momento buono lui Giolitti che avrebbe preferito la pace alla guerra la neutralità all'intervento ma una delle ragioni per cui il governo Salandra Sonnino spinge per l'entrata in guerra dell'Italia in quei dieci mesi sapete tra l'estate le 14 la primavera le 15 una delle ragioni è la lotta in terra non voglio dire che la guerra l'entrata in guerra ci sia stata solo perché la destra liberale voleva prevalere sulla sinistra liberale ma questa è una ragione c'è un blocco di potere c'è un blocco d'ordine ostile al riformismo di Giolitti che aveva caratterizzato quella che infatti chiamiamo l'età giolittiana quasi un quindicennio culminando tra le altre cose nelle elezioni politiche del 13 prime elezioni politiche a suffragio quasi universale solo maschile perché l'epoca non comportava che le donne avessero un'anima diciamo così il voto il diritto di voto bene quel parlamento lì è quello che attraverserà tutta la guerra fino alle elezioni del 19 il popolo dunque era stato considerato degno di votare nel 1912 anno della legge nel 1913 anno delle prime elezioni con quella legge altri due anni e viene considerato degno di difendere la patria a mano armata c'era la coscrizione obbligatoria questa è la contraddizione capite la classe dirigente che non si è fidata per mezzo secolo del popolo e non l'ha fatto votare però da sempre da quando c'è il regno d'Italia c'è la leva obbligatoria anni poi scendono un po' ma comunque anni in cui ogni giovane e poi eventualmente in tempo di guerra ogni richiamato non solo quel di leva vengono armati per fare la cosa più importante che ci sia per esprimere la cittadinanza dal punto di vista della rivoluzione francese che ha inventato la leva obbligatoria cioè difendere il paese a mano armata e che significa che la borghesia che non si fida del popolo e non lo fa votare però se ne fida abbastanza per armarlo ma che cosa serviranno queste armi è sicuro che le armi resteranno voltate verso il nemico esterno politico e militare e non verranno voltate verso per qualche d'uno il nemico interno di classe e politico chi ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu o chi ha visto Uomini contro di Francesco Rosi che il film che ne è derivato nel 1970 sa che c'è un personaggio interpretato da un grandissimo attore Volontè è il personaggio di Ottolenghi un ufficiale che sta accanto a Lussu o Sassu come si chiama nel film e quando c'è una mezza rivolta c'è un ammutilamento della loro brigata Lussu che è stato interventista tra gli studenti di Università di Cagliari vuol dire a favore dell'intervento dell'Italia tutto sommato è soddisfatto perché la sua compagnia non si è ammutinata e non ha buttato le armi né rumoreggia contro gli ufficiali è in ordine e Ottolenghi che è ufficiale accanto a lui che soprattutto nel film che drammatizza potenzia politicizza è più a sinistra del Libro di Lussu Ottolenghi invece dice ma che razza di rivoluzione è le rivoluzioni non si fanno buttando le armi le rivoluzioni si fanno impugnando le armi e non i fucili le mitragliatrici e voltandole e andando verso Roma perché è lì dice Ottolenghi il nemico beh questa è una concezione rivoluzionaria ho detto il film di Rosi spinge il Libro di Lussu più in là di quanto il Libro di Lussu non avesse voluto andare alla metà degli anni 30 quando l'antifascista Lussu fu riuscito in Francia come antifascista aveva scritto il suo libro ma naturalmente ogni film può ispirarsi liberamente a un libro ma poi il regista fa quello che vuole non è che deve essere fedele ma era stata una rivoluzione caporetto domanda oggi noi sappiamo che no e lo sappiamo da un bel po' di tempo ma non lo sapevano in quel momento loro che vivevano gli ultimi giorni d'ottobre e i primi giorni di novembre 1917 e Cadorna nel suo comunicato ufficiale datato 28 ottobre non gli aiuta certo a pensare che si tratti di qualche cosa di fisiologico nella vita degli eserciti e cioè una sconfitta militare no perché Cadorna per levarsi qualunque colpa lui lui e i militari dice è colpa loro è colpa dei soldati hanno buttato le armi e perché hanno buttato le armi qui il discorso va ampliato chi poteva nella interpretazione di Cadorna di tanti altri generali come lui chi poteva aver detto non era avvenuto così ma chi il 28 ottobre 1917 si poteva supporre che avesse avuto interesse e la volontà politica di dire ai soldati gettate le armi i veri nemici non sono gli austriaci punto di domanda la risposta qual è i socialisti nella visione socialisti vorrebbe dire per la generazione successiva i comunisti insomma le sinistre le sinistre scordatevi quello che vuol dire socialista nei decenni vicino a noi a parte il fatto che probabilmente non lo sapete affatto purtroppo ma insomma socialista vi può far pensare a qualche cosa di più moderato di quanto non fosse allora che era l'unico partito di sinistra l'opposizione era il partito socialista quindi era quello il partito che aveva detto di no alla guerra era quello l'unico partito che aveva votato contro il governo Salandra che chiamava l'entrata in guerra il giorno 20 maggio 1915 è quello il giorno in cui finalmente il Parlamento viene chiamato a votare un po' tardi visto che la guerra comincia tre giorni e mezzo dopo questo vi fa capire il peso del Parlamento tutto era stato deciso fuori dal re dal governo neanche da tutti i ministri con l'appoggio della piazza interventista la piazza interventista è una cosa grossa importante è variegata in quei giorni d'ottobre Cadorna ma non solo lui gettano dunque la colpa ai socialisti cosa hanno fatto di male i socialisti per diventare il capro espiatorio di una sconfitta di cui si stenta a capire il senso e anche le proporzioni beh non avevano votato i crediti di guerra il 20 di maggio 2015 non è una piccola cosa quindi c'era questo no poi avevano una parola d'ordine il segretario del partito aveva scogitato la parola d'ordine né aderire né sabotare cosa vuol dire vi ricordo che 20 o 30 anni prima i socialisti erano insieme agli anarchici questa parola d'ordine vuol dire noi non torniamo anarchici non invitiamo i nostri militanti a atti politici individuali a microattentati a sparacchiare così questo sarebbe tornare indietro il partito socialista vuole essere un partito di massa un partito organizzato non composto di anarchici che credono invece anche nel gesto individuale per quanto piccola parentesi il gesto individuale di Gaetano Obrisci aveva eliminato re Umberto e sostituito con un re che si comporta molto diversamente da lui quindi non è che i gesti individuali di per sé non portino a nulla nella storia dei popoli esistono anche le stagioni del terrorismo come tutti dovrebbero ricordarsi quando usano troppo facilmente questa parola anche Mazzini si beccò del terrorista da quelli che erano antimazziniani eccetera oppure i futuri capi di Israele nascono come terroristi oppure non è che i gappisti della resistenza non facessero del terrorismo il problema è quando è il contesto storico politico che rende significativo politicamente e non un gesto disperato ed inutile il gesto individuale allora i socialisti non hanno assolutamente pensato di poter ribellarsi alla guerra con una micro casistica di gesti individuali contro non hanno fatto questo dunque non sabotare sabotare era il termine anarchico non hanno sabotato ma che non abbiano sabotato non vuol dire che i loro nemici non pensassero che loro potevano sabotare capite cioè l'immagine l'immagine conta e il caporetto mettete il caporetto tra virgolette sto parlando ormai di una parola cosa non di una semplice battaglia tutto sembra diventare possibile l'indicibile l'impossibile forse forse ci siamo pensano in molti il 27 il 28 il 29 il 30 ottobre mirabile ma tutt'altro che certo quello che avviene dal 9 novembre cioè che i soldati si fermino e che sapiano resistere ma a fine ottobre non si può sapere che cosa succederà il 9 novembre cioè una settimana dopo il che vi dice il senso di incertezza smarrimento mistero che caratterizza quei giorni caporetto è questo enigma cosa sarà veramente avvenuto Cadorna dice hanno buttato le armi qualche d'un altro dice un generale ha fatto il furbo anche questo girava e cioè ha ritirato la sua brigata ha creato un buco perché il nemico ci si infilasse e poi noi lo prendevamo a tenaglia in mezzo se qualche d'un non ha davvero pensato beh non si è affatto realizzato l'immaginario scatenato questo secondo me è la formula riassuntiva di quello che avviene in quei giorni in cui tutto sembra possibile ciò che gli uni possono chiamare tradimento Cadorna lo chiama tradimento ma non è certo il sole Bissolati lo chiama tradimento eccetera eccetera altri forse potrebbero chiamarlo rivoluzione vi ricordate che sullo sfondo c'è la rivoluzione russa in cammino la prima c'è già stata in febbraio quella diciamo democratico liberale di Kerensky la seconda è proprio a cavallo di questo stesso periodo allora non staranno i soldati semplici italiani non sarà il popolo in grigio verde cercando di fare qualcosa come la Russia fare come la Russia è una parola d'ordine di caporettisti o è invece una parola d'ordine degli anticaporettisti che si immaginano quello che non è io penso che sia questa seconda cosa cioè caporetto è un sogno ma il sogno può essere un bel sogno oppure un incubo allora caporetto sognato da Cadorna uso lui così come termine espressivo riassuntivo caporetto sognato diciamo dalla classe dirigente politico militare è un incubo le masse popolari si rivoltano io nei miei studi non ho trovato caporetto sognato invece che in negativo cioè come incubo in positivo cioè come e noi faremo come la Russia non quelli forse vogliono fare come la Russia ma noi noi popolo noi proletariato noi soldati semplici vogliamo fare come la Russia e d'altra parte è il discorso che prima esemplificavo con il personaggio di Ottolenghi se gettano il fucile vuol dire che non vogliono fare la rivoluzione il presidente Mao diceva che la rivoluzione si fa sulla canna del fucile tutte le rivoluzioni si fanno armate altrimenti è obiezione di coscienza è un'altra cosa è stanchezza è crisi e non è che sia una cosa da poco la crisi di passività che investe centinaia e migliaia di soldati ma è una cosa diversa dalla volontà politica di fare che cosa risorgere l'internazionale la seconda internazionale aveva fatto miseramente fallimento nel 1914 secondo i congressi secondo i pezzi di carta dovevano fare la rivoluzione i proletari di tutti i paesi dovevano unirsi tra di loro contro le rispettive borghesia e guerra fondaie non succede niente di tutto questo anzi ogni proletariato tende ad unirsi alla rispettiva borghesia questo viene in Austria questo viene in Germania dove ci sono i due partiti socialisti guida di tutto il movimento operaio europeo per cui il neo aderire nel sabotare del partito socialista italiano a parte quello che succederà in Russia che è una cosa d'eccezione quello che succede in Italia in fondo è il massimo di quello che sono capaci di fare i socialisti europei perché in Francia per esempio vanno addirittura al governo in Austria e in Germania votano quello che ha deciso il governo aristocratico borghese e imperiale vi vedo già abbastanza stanchi ma come è possibile mi ha appena cominciato su con la vita ragazzi eh sono cose impegnative difficili però spero abbastanza interessanti su con la vita ho qualche faccia troppo vicino a me che mi sembra molto addormentata vediamo di risvegliarla se ci riesco e che devo fare più di scoppi esplosivi come guerre rivoluzioni accusi di tradimento sì no sogni ecco non sognate troppo non mettetevi a sognare voi stiamo descrivendo il sogno del 1917 non vi riguarda voi state bene svegli a vedere un po' questo sogno stiamo parlando sempre di quello che poteva apparire quando non sapevano nulla in quella manciata di giorni quei 15 giorni tutto sembra acquisire un significato e una pertinenza in quei giorni ciò che è avvenuto nei mesi immediatamente successivi cose che erano già avvenute e messe lì non sembravano particolarmente significative l'ottobre le fa ad un tratto diventare significative a cosa penso a una serie di elementi che riguardano sia i socialisti sia i cattolici che sono i due grandi campi le due famiglie politico-culturali accusabili di avere voluto il rifiuto della guerra perché da questi due grandi campi erano avvenuti i due grandi neutralismi del 14-15 dal mondo socialista e dal mondo cattolico diverso neutralismo molto più rigido quello dei socialisti molto più possibilista quello dei cattolici che avevano detto tra 14-15 noi preferiamo la pace tra parentesi noi amiamo molto l'Austria e Cecco Beppe chiusa parentesi ma questo lo pensavano soprattutto i laici e i massoni che però avevano ragione era proprio così l'Austria era cattolicissima e qui dal punto di vista della Chiesa era un bel baluardo e quindi mettersi contro l'Austria dalla parte della Francia laica e volteriana dalla parte della Gran Bretagna protestante non è che fosse una cosa che potesse fare molto piacere al mondo cattolico italiano il primo agosto del 17 il Papa aveva fatto un documento in cui c'era una frase importantissima che definiva la guerra un'inutile strage oggi cento anni dopo sembra che tutti i cattolici come un solo uomo abbiano detto la guerra è un'inutile strage ma non è vero niente l'ha detto il Papa espressione del carattere ecumenico e transnazionale della Chiesa cattolica e universale il Papa ma prescovi parloci e singoli cattolici ma in ogni paese si suonava il tedeum per le proprie vittorie e contemporaneamente il tedeum cattolico poteva suonare sia a Roma che a Vienna sia a Parigi che a Berlino erano chiese nazionali in realtà nella realtà delle cose però quando arriva Caporetto c'è chi dice ma quelle inutili strage non sarà che i contadini soldati che si fidano solo del parroco e della mamma quando sono andati in licenza si sono fatti insufflare che in fondo si poteva anche cessare di combattere ma nel nostro paese prendersela con i preti e i cattolici è più dura che prendersela con i socialisti e quindi i principali indiziati di avere voluto Caporetto sono i socialisti Treves un deputato possiamo considerare il lungotenente di Filippo Turati che era il capo dei socialisti riformisti a metà luglio alla camera aveva pronunziato una frase che diventa quasi una parola d'ordine vista dall'ottobre qualche mese dopo signori del mio governo signori degli altri governi ascoltate il grido che sale dalle trincee il prossimo inverno non più in trincea non era molto rivoluzionario perché si rivolgeva ai governi e diceva ai governi ascoltate quello che dicono che pensano i popoli fate la pace ma lo dice ai governi lo dice al popolo quindi non è rivoluzionario è riformista come era Treves però se anche i socialisti i riformisti la pensano così figurarsi come la pensano i socialisti più a sinistra e ce n'erano anche nell'Avanti il quotidiano del partito e infatti il segretario del partito e il direttore dell'Avanti vengono messi in carcere il partito non organizza politicamente caporetto non solo non ha dato l'ordine di gettare le armi ma una volta che il fatto è comunque avvenuto il partito non si mette per niente alla testa di questo non cerca affatto di politicizzare questa clamorosa crisi di passività c'è un libro che vi consiglio di leggere un libro di Curzio Malaparte nome dipenda in realtà si chiamava aveva un nome e cognome tedesco anche se era di Prato era figlio di un operaio tedesco che era andato a lavorare nell'industria tessile di Prato si chiamava Kurt Zuckert si ribattezza Curzio Malaparte il suo libro è nato subito dopo la guerra con il titolo Viva Caporetto i nazionalisti i protofascisti rompono le vetrine in cui c'è esposto questo libro allora autore e editore ristampandolo perché naturalmente questo scandalo produce anche successo lo ristampano ma gli cambiano titolo e lo chiamano la rivolta dei santi maledetti è facile trovarlo perché c'è in varie edizioni è un libro importante in cui Zuckert che era partito volontario per fare la guerra quando l'Italia non era ancora in guerra ci sono dei protomarcia della guerra che sono soprattutto i Garibaldini guidati dal più anziano dei nipoti di Garibaldi che vanno a fare la guerra in Francia ricordate che l'Italia entra in guerra dieci mesi dopo la Francia è già in guerra prima i Garibaldini cappeggiati dai nipoti di Garibaldi sono cinque ne vogliono due è una cosa seria non sono parate militari è vera guerra due ne vogliono vanno a fare la guerra in Francia beh anche a Malaparte c'era andato lui era un repubblicano era un ragazzo repubblicano di Prato era il leader dei ragazzi repubblicani di Prato essere repubblicani in tempo di monarchia significa essere rivoluzionari in senso politico ma non in senso economico i repubblicani non sono rivoluzionari in senso economico ma politico sì quindi un libro intitolato Viva Caporetto scritto da uno che era stato ferito era partito volontario era andato già nel 14 a fare la guerra insomma era inattaccabile era inattaccabile dal punto di vista del suo pedigree politico-militare conta doppio e lui cosa dice? dice il popolo non ne poteva più la seconda armata fa una sorta di bisolati e bisolati socialdemocratico bisolati che usa il termine sciopero militare più o meno è quello che descrive anche Malaparte è uno sciopero poi però cosa succede? racconta sempre in questo suo libro vengono via sono stufi sono stanchi non ne possono più pace pace tutti a casa ma è una crisi di passività ci vorrebbe una classe dirigente per agire in positivo cioè ci vorrebbe una classe dirigente rivoluzionaria non c'è non c'è quindi la classe dirigente che salta fuori qual è? la stessa di prima nel giro di pochi giorni la classe dirigente politica militare lo Stato riprende in pugno questi militari e quindi tutto si risolve in una gigantesca crisi di stanchezza e di passività contenuta all'interno di una delle armate non si comunica alle altre armate non si comunica al proletariato di fabbrica per esempio il 4 novembre Benito Mussolini mi ricordo che Mussolini era stato direttore dell'Avanti quindi di un baluardo del partito socialista fino a settembre del 14 e poi nel giro di un mese era uscito dal quotidiano e dal partito contro la guerra e aveva fondato il suo nuovo giornale quotidiano il popolo d'Italia che sarà viceversa fondamentale nel portare l'Italia in guerra questo ci potrebbe far pensare a un Mussolini cadorniano anche rispetto al comunicato del generale il 28 ottobre invece no è più fine politicamente il 4 novembre scrive un articolo intitolato viva gli operai o qualcosa di questo genere dove Mussolini constata che nelle fabbriche si lavora non si sciopera intanto meno si fa la rivoluzione e quindi il disegno politico militare degli austriaci sta fallendo perché gli manca la gamba politica c'è la gamba militare è uso il termine gamba che è venuto di moda in questa campagna elettorale la gamba politica sarebbe stato che si creasse un cortocircuito tra il fronte e le retrovie le fabbriche ma questo non succede né a Torino né a Milano né altrove gli operai si mettono in lotta c'erano stati episodi di lotta nei mesi precedenti se fosse stata una rivoluzione l'ottobre avrebbe dovuto accentuarla invece no non è che sia falso semplicemente perché l'ha scritto Mussolini è andata proprio così e anche il libro di Malaparte mi sembra che in forme narrative racconti forniscano la linea interpretativa che funziona ci sono altri scrittori come Comisso per esempio o Bacchelli che tutti e due hanno fatto la guerra che introducono un altro elemento per capire Caporetto che è il carnevale ho detto alla latina i Saturnali cioè Caporetto è una breve vacanza è una vacanza quindi non ne potevano più allora gli errori militari dei generali ci sono stati la sconfitta c'è e viene colta a volo per respirare quindi buttano le armi e per qualche giorno sognano che sia finita la guerra quanti diari o quante memorie ma specialmente quelli scritti allora subito riportano frasi del tipo finita la guerra finì io a guerra a casa la pace non è la rivoluzione è il tutti a casa semmai di un film relativo alla seconda guerra mondiale con Alberto Sordi da cui però alla fine nasce la resistenza le quattro giornate di Napoli non il tutti a casa nel senso di ciascuno se ne va a casa sua e chi se ne frega dello stato del paese ecco si potrebbe continuare potrei ma non è il caso di farlo siamo già abbastanza avanti con il tempo proseguire a parlare di Caporetto ma adesso devo avanzare e velocizzare il discorso per dirvi che nei sei mesi successivi è una guerra di resistenza e di difesa gli austro-ungarici hanno perduto i tedeschi che hanno consentito a prestare sette divisioni per fare Caporetto hanno prestato sette divisioni portandole via al fronte occidentale la Francia che per i tedeschi è quello decisivo ma le ritirano dopo poche settimane per cui gli austro-ungarici ridiventano gli austro-ungarici senza i tedeschi e quelle sette divisioni erano le migliori che avevano oltre a questi ci hanno messo il piano di guerra modernissimo e i generali anche per questo c'è Caporetto non solo per la stanchezza e la crisi ma perché è modernissimo il modo degli austro-ungarico tedeschi di venire avanti cioè una penetrazione in verticale non l'avanzata in orizzontale come le spallate sul risonzo che faceva da anni Cadorna tentativo di avanzare in orizzontale qui è una penetrazione in verticale che si esaurisce al piave anche per questa altra ragione che finora non vi ho detto a un certo punto le avanguardie vanno troppo avanti e quando sono troppo avanti rispetto al grosso non possono più essere rifornite di uomini di materiale di esplosivi di tutto quello che serve per fare la guerra e si fermano anche per questo allora la guerra diventa per gli italiani la guerra di difesa attenti gli italiani non sono stati salvati dall'arrivo degli alleati dell'intesa in qualche libro un po' protervo e mendace inglese o francese si può ancora trovare scritto questo ma non è questo perché le truppe britanniche e francesi arrivano tanto c'è bisogno di tempo perché arrivino ma quando arrivano in Italia si mettono a guardare non entrano in linea non entrano in linea gli storci militari si sono interrogati sul perché di solito danno questa ragione che finché non è chiaro se è o non è una rivoluzione loro non vogliono lasciare eventualmente contaminare dal virus rivoluzionario anche le truppe francesi e britanniche però è comunque da comunque un senso di sicurezza agli italiani sapere che là dietro anche se non sono ancora entrati in azione ci sono però delle truppe alleate possono costituire una specie di riserva quella riserva che la seconda armata non ha dietro di sé dei giorni di Caporetto per cui una delle ragioni di Caporetto è anche questo che le truppe della seconda armata sono sistemate in un modo che dietro non hanno quelle riserve che ci sarebbero volute ma non si tratta soltanto del passaggio tra una guerra di offesa a una guerra di difesa c'è anche una conduzione diversa della guerra come vi dicevo prima il generale Diaz non è un Cadorna forse era anche meno bravo può darsi i torri militari non lo escludono però Cadorna era un generale di vecchio stampo faccio tutto mi faccio tutto io mi avete voluto capo potete togliermi ma finché sono io tu governo non ci metti il becco e non osare mandarmi il ministro Bissolati a vedere cosa faccio io non voglio politici tra i piedi e così non voleva interventisti non amava affatto i volontari non voleva politicizzare la guerra voleva solo preti Cadorna reistituisce i cappellani militari di cui l'Italia liberale e laica e massonica diciamolo pure aveva fatto a meno mille subito diventeranno duemila questi sono gli intellettuali ammessi intellettuali di un certo tipo naturalmente che devono consigliare rassegnazione all'ode dell'esercito e dello stato liberale dobbiamo dire che oltre che queste specie di parroci militari che sono i cappellani militari che sono equiparati agli ufficiali ci sono anche alcuni rabbini per i soldati ebrei e alcuni pastori per i soldati protestanti questo pluralismo religioso lo stato liberale lo assicura con grande scorno di molti cattolici che ne scrivono per esempio nei testi per le filodrammatiche cattoliche che sono attivissime in quel momento e rappresentano la reintegrazione del mondo cattolico nello stato liberale ma alle proprie condizioni e gli autori cattologi che qualche volta sono prossimi deputati del partito popolare nazionale 19 dicono vabbè ma perché hanno fatto sti rabbini cosa c'entrano i rabbini cosa c'entrano i pastori noi siamo un paese cattolico le minoranze c'erano naturalmente sono pochissimi i rabbini e i pastori rispetto ai mille poi duemila che sono sacerdoti cattolici e gli intellettuali via dall'esercito di Cadogna avevano fortemente voluto la guerra ma spariscono possono diventare combattenti ma non in quanto intellettuali essendo per lo più laureati o qualcosa del genere saranno sottotenenti e tenenti e non soldati semplici esercitano un micropotere militare ma non di più salvo che non trovino un qualche generale più moderno e che capisce che comincia a capire tra i primi che in fondo anche parlare ai soldati può essere una buona cosa cercare di persuaderli di dargli qualche ragione ma il grande momento della persuasione verrà con il servizio P P vuol dire propaganda ma vuol dire anche psicologia nei primi mesi del 1918 dasse questo apparato ogni reparto ha un suo ufficiale P che fanno capo alla sottosezione che fanno capo a una sezione ogni armata ha una sezione ogni brigata ha una sottosezione poi c'è un ufficiale P in ogni reggimento sono come dei pastori laici io ne ho conosciuto qualche d'uno che ormai il vecchio ricordava questa sua stagione di intellettuale socialmente utile in tempo di guerra Piero Jaillet per esempio l'autor di Con me e con gli alpini diceva noi eravamo come i commissari politici dell'armata rossa naturalmente era l'armata tricolore non l'armata rossa ma comunque noi eravamo i commissari politici e si scandalizzava Jaillet che era un interventista democratico con me e con gli alpini cioè era un alpino con tutto il mondo solidale i valori di solidarietà tipici degli alpini lui mi ha raccontato io ho scritto nell'antologia dell'astico giornale delle trincee che è il suo giornale è il giornale che fa quasi da solo Jaillet per la prima armata Jaillet mi ha raccontato nel servizio P della mia stessa armata c'era Alfredo Rocco qualche uno di voi si ricorderà forse che è esistito un codice Rocco perché questo nazionalista questo professor Rocco questo grande giurista è stato poi ministro della giustizia del governo Mussolini e ha rifatto il codice che perciò ha preso il suo nome al posto del codice di età liberale bene Jaillet mi raccontava che Rocco come ufficiale P diceva raccontiamo tutte le balle che ci vengono in mente pur che siano utili a vincere e Jaillet diceva no no questo non è possibile bisogna essere sinceri la nostra è una guerra di valori noi abbiamo ragione noi facciamo una guerra giusta quindi raccontiamo la giusta questo è un elemento sono parole parole parlate e parole scritte io vi ho nominato l'astico che prende il giornaletto del primo armato prende il nome da un fiumicello della Val d'astico tra Piovene e l'altopiano di Asiago diciamo l'astico però il giornale più famoso è quello della terza armata si chiamava La Tradotta La Tradotta è il treno dei soldati quello che procede lentissimo forse qualcuno di voi è capitato di sentire uno dei canti più famosi di guerra la Tradotta che parte da Torino eccetera eccetera questo giornale della terza armata è bellissimo da vedere perché i più grandi illustratori i più grandi disegnatori i più grandi copertinisti di cui disponeva il mercato vengono utilizzati per fare i giornali di propaganda La Tradotta lo fanno i giornalisti e i disegnatori del Corriere della Sera che torna in campo tra le cose che Albertini fa è di prestare i suoi giornalisti per fare le cose più diverse Barzini Fraccaroli Rizzini Oietti è a capo della propaganda al Comando Supremo Renato Simoni che è il critico teatrale del Corriere è a capo di questa tradotta che mi sto nominando anche i disegnatori sono gli stessi del Corriere dei Piccoli il Corriere dei Piccoli è settimanale per i bambini ma fa parte della grande azienda del Corriere l'azienda Corriere si esprime anche attraverso la Domenica del Corriere vedo che siete troppo stanchi volete vincere lo so ma capisco che la maggioranza non mi segue più comunque si è vero vi confesso e vi ricordo che l'Italia ha vinto la guerra ha vinto la guerra perché evidentemente era un po' meno stanca e molto meno affamata degli austriaci l'altra ragione fondamentale è questa la caporetto che si preconizzava per l'Italia era una caporetta sociale cioè forse il popolo si sta rivoltando non era così ma lo si è pensato per un po' di tempo la caporetto che contribuisce ad abbattere invece l'impero asburgico non è una caporetta un caporetto sociale anche ma soprattutto una caporetto nazionale cioè era una dozzina di popoli una dozzina di nazionalità era uno stato sovranazionale l'impero asburgico all'epoca viene sentito una sopravvivenza e ciascuno dei popoli ha combattuto per un po' fedele a Francesco Giuseppe Francesco Giuseppe il vecchissimo imperatore che regnava dal 48 pensate cioè da sempre praticamente muore nel 16 l'anno in cui l'Austria impicca Battisti al castello del Buon Consiglio due avvenimenti simboli ha seminato una serie di figli e nipoti sono morti prima di lui nei decenni precedenti a questo punto c'è Carlo questo Carlo o Carlino come lo chiamavano un po' sbeffeggiandolo non è all'altezza non ce la fa non ci riesce non vuole non può è passato il suo momento non sa come governare la situazione all'ultimo momento si inventa una possibile soluzione di carattere federativo non li tengo più insieme sotto il mio scettro proviamo un po' sciogliamo l'imperatore diamo maggiori autonomia e libertà bisognava farlo prima adesso è troppo tardi e allora succede questo paradosso che i popoli che stavano subendo una grandiosa sconfitta in quanto sudditi dell'impero possono risvegliarsi dall'oggi al domani vincitori in quanto cittadini di un nuovo stato sorgente dal nulla o appoggiandosi a uno stato che già c'è la Serbia c'era già ma ci sono serbi che sono sotto l'impero e che possono perciò unificarsi con la Serbia la Slovenia può nascere la Croazia poi possono decidere gli slavi se mettersi insieme oppure no se fare un unico regno o fare una cosa tripartita ma poi ci sono polacchi nell'impero asburgico ci sono ruteni e ci sono naturalmente trentini giuliani istriani dalmati noi siamo abituati nella nostra prospettiva italocentrica a vedere Trento e Trieste e quindi il compimento del risorgimento italiano attraverso Trento e Trieste ma qualcosa di simile serpeggiava anche o prima o poi magari non da così prima come in Italia ma nel corso della guerra serpeggia anche nei popoli slavi allora tutto questo precipita sempre di più verso l'autunno del 18 e culmina nell'ottobre del 18 cioè esattamente un anno dopo Capoletto allora gli autriaci cominciano vedono non ce la fanno più cominciano a pensare qui bisogna chiedere all'armistizio ma la guerra dell'Austria adesso che non c'era più da combattere sul fronte orientale perché c'è stata la rivoluzione non c'è più quella guerra ormai la guerra dell'Austria è contro l'Italia quindi logicamente gli autriaci se non ce la fanno più perché hanno fame perché stanno perdendo perché hanno la sollevazione politica all'interno del mondo ungherese del mondo sloveno eccetera beh dovrebbero chiedere la rivestizia a chi? agli italiani non ce n'hanno nessuna voglia come sarebbe quei traditori vi ricordo che l'Italia era stata alleata dall'82 della Germania e dell'Austria e come mai? perché Crispi voleva allearsi con la Germania e la Germania era già alleata con l'Austria per cui nell'82 la Germania dice sì sì Italia alleiamoci pure però se ti allei con me ti devi alleare anche con l'Austria un brutto rospo è un'alleanza tra nemici storici perché la cosa è reciproca non è che soltanto gli italiani considerino un nemico storico l'Austria di Cecco Beppe è una cosa reciproca per cui la cattura il processo la condanna a morte l'esecuzione di Cesare Battisti è un simbolo sia per gli uni che per gli altri nella città da redimere o da non lasciare conquistare Trento va bene quindi all'inizio d'ottobre fanno di tutto gli austriaci per arrendersi ad altri a chi? a Wilson gli Stati Uniti sono entrati in guerra e si sono rivelati presto decisivi anche per i militari ma soprattutto per la enormità delle loro risorse che assicura che la guerra dell'intesa potrà prolungarsi all'infinito cosa che non si può dire ovviamente per la guerra degli imperi centrali che non hanno un grande alleato che sia arrivato ad aiutarli all'ultimo momento al penultimo momento quindi gli austriaci possiamo dire ancora austro-ungarici non i tedeschi gli austro-ungarici l'impero austro-ungarico cerca di ottenere la sospensione dell'ostilità dal presidente degli Stati Uniti questo non può avvenire non può Wilson passare sopra la testa dell'Italia in un modo così brutale e quindi verso la fine di ottobre gli austriaci non ce la fanno più e devono calarsi a chiedere l'armistizio e come mai intanto è partita la battaglia intorno proprio al 24 ottobre del 18 che culminerà nella piana di Vittorio Veneto il generale Diaz avrebbe aspettato volentieri la primavera per avere più forze ma il governo Orlando dice guarda che la guerra sta per finire se la guerra finisce e noi abbiamo ancora gli austriaci in casa che occupano l'intero Friuli e metà Veneto ci facciamo una figura da chiodi cioè perdiamo la guerra succede come la terza guerra e l'indipendenza capite una cosa non proprio una bella figura quindi bisogna assolutamente riprendersi almeno le terre che avevamo prima bisogna arrivare a Trento e Trieste prima che la guerra finisca e così sarà Vittorio Veneto è questa una corsa una galoppata per arrivare prima che la guerra finisca giocando anche sulle ore dell'armistizio sul momento sul minuto in cui entra in vigore il 3 novembre o il 4 novembre non tutti i popoli dell'impero a quel punto combattono ancora no però in alcune zone combattono e duramente per cui non è una sinecura la battaglia c'è stata poi si capisce come accade per le grandi vittorie ma insomma che l'Italia faccia fuori l'Austria non era mica una cosa scontata si capisce che questa vittoria venga poi resa ancora più epica e amplificata e che ci sia tutta una retorica della vittoria ma sarebbe poco rispettoso dei fatti se oggi voi ignoraste che questa battaglia c'è stata davvero e che ebbene si l'Italia ha vinto la prima guerra mondiale sul suo fronte noi tutti qui a scuola facciamo il nostro dovere raccontiamo che uno dei grandi problemi che l'Italia unita deve affrontare qui parlo allo storico dell'Italia unita è stata quella che una volta che l'Italia è stata fatta nel 1861 bisogna fare gli italiani allora la domanda è questa che italiani ha fatto la prima guerra mondiale cioè le trincee che italiani hanno fatto perché lei l'ha un po' detto all'inizio molto interessante per molti di questi è stata la prima vera grande esperienza unitaria è stato il primo grande crogiolo in cui quegli italiani che appartenevano a identità regionali locali che non erano mai usciti di casa finalmente fanno un'esperienza e l'Italia gli dà una divisa quindi anche un elemento identificativo molto forte perché la questione è questa ha fatto solo perché noi tutti raccogliamo l'appello finale insomma c'è qualcosa c'è un orgoglio nazionale anche del fatto che noi abbiamo vinto una guerra una guerra che era giusta nella misura in cui ha completato il progetto risurggimentale città che erano italiane Trento, Trieste le abbiamo acquisite al territorio nazionale ma ha fatto solo degli italiani risentiti le trincee erano solo rancorosi tant'è che appena finisce la guerra perché è quasi subito cioè non è come in Germania che ha incubato molto più a lungo arriva un pifferaio che è Benito Mussolini che se li porta dietro tutti cioè il problema è rispetto a quello che è uno delle sue ottiche che è quello di capire al di là degli eventi insomma che italiani hanno fatto che la guerra che italiani ha fatto li ha fatti solo italiani che si sentivano a credito adesso noi abbiamo fatto questa fatica enorme che è stata la guerra e adesso però vogliamo qualcosa che questa breve esperienza democratica che sono stati 3-4 anni prima della marcia su Roma gli ha fatto sperimentare se possibile io preferirei raccogliere tutte le domande e dividere bene il mio tempo già questa domanda naturalmente ha bisogno del suo tempo per la risposta preferirei sentire anche anche i ragazzi non solo i docenti i ragazzi e vorrei dire anche in quota rosa le ragazze tutte e due su con la vita su ragazzuoli forza venga qui prego voglio sentire bene grazie io ho sentito che per la battaglia di Vittorio Veneto il governo italiano era stato spinto anche dagli adati francesi e inglesi perché volevano preparare un'offensiva contro la Germania e volevano che l'Austria fosse completamente fuori dai giochi in modo tale che non potesse aiutarla grazie avanti vengono prego sull'argomento che ha trattato quello delle cause di Caporetto ci sono scritti tanti libri ancora probabilmente non si saprà mai il vero mix di fattori che l'hanno provocato però secondo me è stato un po' severo o meglio non ha detto forse tutto nel giudicare l'inconquittà del timore di una rivoluzione sociale da parte della classe dirigente a parte il fatto che stiamo parlando di 15 giorni quindi cioè riuscire in 15 giorni a ricostituire una linea di difesa efficace da un esercito in rotta è comunque già un'impresa molto 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 forte perché secondo me nella testa di Gadorna comunque del governo c'era ancora il ricordo che non è poi difficile ma ricordo ma passa un po' tempo dei fatti del 14 di Ancona delle settimane rosse ci avevano provocato dei grossi risultati quindi sospettare che ci potesse essere una volontà rivoluzionaria non mi sembra così fuori luogo poi sono d'accordo che la cosa più vergognosa è stato il comunicato di Gadorna che è una cosa indegna secondo me però va perlomeno tenuto presente come alimentare come sottofondo e per quanto voglio dire su quella domanda che ha fatto il professore su che Italia ha lasciato un aspetto interessante che spiega un po' il pifferario che è dopo questo successo che come io ho detto che è felice quindi può essere che sia una cosa che dice lui ma penso che sia vera di ritorno al ritorno questi riusci non è che sono stati accolti bene quelli che erano rimasti a casa li prendevano di giro cioè subivano violenza subivano insulti da quelli che non rimasti a casa perché li accusavano di aver fatto una guerra imperialista praticamente di essere soggettati a un gioco che non era quello che faceva parte degli ideali del socialismo fondamentalmente su questa fase di reazione gli eredici hanno costituito una massa di manovra su cui diciamo i borghesi hanno potuto giocare si sono messi contro per forza perché non erano stati ricevuti questa è secondo me la risposta ringrazio dillo dillo Sofia no Sofia che vuole Sofia stamattina quasi nessuno ha parlato nel dibattito poi appena abbiamo finito sono arrivato io volevo dire questi ve lo chiedete quello no chiedetevelo è socialmente utile se me lo chiedete pubblicamente invece di privatizzare io non sento però se lei non viene io lo so ma dai su è piaciuto Sofia questa ah voleva dire fare solo complimenti va bene vedi dove ha detto la voce alta va bene grazie allora io rispondo i tre interventi corrispondono a un maggior numero di domande e di temi io rispondo subito alla seconda dello studente perché posso essere più rapido cioè glielo chiedono anche gli alleati di passare all'attacco in quella che diventerà e verrà chiamata la battaglia di Vittorio Vento la risposta è certamente sì non c'è soltanto la spinta del governo Orlando preoccupato delle conseguenze dell'arrivo della pace con gli austro-ungarici ancora in territorio frullano e Vento c'è anche la richiesta degli alleati non è stata un'alleanza che abbia sempre funzionato a pieno vapore ciascuno degli alleati ha pensato soprattutto a se stessi però ci sono state delle fasi in cui maggiormente le autorità militari e o le autorità politiche dei vari paesi hanno cercato di unire le forze c'erano degli effetti di rimbalzo importanti per esempio durante la Strafe Expedition che qualcuno chiama anche spedizione punitiva nella primavera del 1916 quello che avviene o non avviene sul fronte russo che allora c'era ancora nel 16 a differenza che l'anno dopo ha degli effetti di rimbalzo importantissimi su quello che avviene sugli altipiani dalle nostre parti perché gli austriaci nel 16 combattono ancora su due fronti gli stessi soldati non li possono tenere su due fronti o li portano da una parte o li portano all'altra comunque li devono dividere allora quello che succede in Russia una pressione maggiore dei russi sugli austriaci al fronte orientale fa sì che gli austriaci non possano proseguire nell'attacco sugli altipiani contro gli italiani e viceversa quindi questi effetti di rimbalzo sì ci sono e quindi la guerra non è semplicemente di ciascun paese contro un altro paese è anche una guerra d'insieme ogni volta rinegoziando io ti do 8 reggimenti non te li do prima vi dicevo che tedeschi si sono fatti molto pregare prima di prestare quelle sette divisioni agli austro-ungarici eppure sapevano che gli austro-ungarici stavano prendendone sapevano che la bainsizza è vicinissima a Trieste e che ci voleva un niente perché gli italiani arrivassero a Trieste città ancora più simbolo e ancora più importante di Granung e più importante di Trento e però si fanno pregare gli rilasciano due o tre mesi e poi li ritirano perché nella loro visione delle cose il fronte occidentale è molto più importante del fronte meridionale per i tedeschi ma non è così per gli austriaci è una questione anche di geografia ovviamente oltre che di storia il rapporto tra Austria-Italia è completamente diverso dal rapporto tra Germania-Italia tanto è vero che l'Italia entra in guerra contro la Germania solo nel 16 e anche questo è un effetto di rimbalzo è l'intesa è l'alleanza che spinge perché l'Italia entra in guerra anche contro la Germania di suo l'Italia non le sentiva molto il bisogno da tanti punti di vista bancario tecnico scientifico l'Italia era piena di ammirazione per la grande Germania ben detto Croce gli idealisti la filologia la chimica la banca la socialdemocrazia tutto guardava alla Germania ma non alla Germania come a un modello quindi la risposta è sì l'intesa preme perché la battaglia di quella che si chiamerà di Vittorio Veto cominci anche se Diaz aveva fatto orecchie da mercante fino a quando non esiste anche il suo presidente di consiglio cioè autorità politica italiana le altre due questioni sono abbastanza intrecciate o intrecciabili e tratterò dunque insieme nel parlare delle cause di Caporetto anche se mi sono dilungato soprattutto sul primo punto in realtà tante cose non le ho potute dire non ho sottolineato abbastanza forse che la storiografia militare in senso stretto gli storici militari pensano che Caporetto abbia delle cause sostanzialmente d'ordine militare cioè Cadorna generale in capo e Capello che comandava la seconda armata avevano piani di guerra differenti che non combaciavano uno più difensivo uno più offensivo questo ha avuto delle gravi conseguenze Badoglio comandava il ventesettesimo corpo d'armata ha fatto degli sbagli gravissimi anche se poi la inchiesta su Caporetto lo ha salvato perché intanto era diventato il vice Diaz e stava facendo bene come riorganizzatore dell'esercito per cui come succede in queste inchieste prettamente politiche lo hanno salvato perché ormai Badoglio si era redento ma gli errori li aveva fatti prima quindi le cause militari alla fine noi riteniamo che si erano state scatenanti di Caporetto ma siccome non è uscita soltanto una battaglia persa ma ne è uscita Caporetto la cosa la parola cosa Caporetto ecco che io così per i miei studi non essendo io uno storico militare sono portato a sottolineare di più le fantasie i sogni gli aspetti psicologici e ideologici d'altronde le mie fonti sono sempre state prevalentemente di carattere diaristico memorialistico e narrativo io sono partito dalla letteratura della grande guerra anche i vinti di Caporetto il mio antico libro che adesso sto rifacendo è un'antologia di testi di scrittori o di persone che si scoprono scrittori davanti a questa vicenda quindi per me l'ideologia è primaria ma non credo di essere io che ce l'aggiungo rispetto a una battaglia che sia come le altre elemento scatenante la sconfitta le cause militari tutta una serie ve ne ho dette qualche d'uno ce ne sarebbero altre c'è anche la nebbia c'è anche l'uso dei gas c'è il piano di guerra avveniristico dei tedeschi tutte queste cose messe insieme sono fatti militari d'accordo ma poi in quei giorni in quelle settimane e poi per qualche d'uno anche negli anni e decenni successivi per qualche giornalista che si impanca storico anche oggi l'enigma caporetto consisterebbe ancora in questi fantasmi che si porta dentro cioè i sospetti sospetti che possono essere positivi o negativi chiama la rivoluzione chiama la ribellione chiama la rivolta chiama la rivolta abortita chiama la sciopero militare comunque un qualche cosa in più rispetto alla dimensione militare in senso stretto qualche cosa che attiene la soggettività la soggettività le soggettività di milioni di uomini militari e di milioni di civili accanto a loro i loro familiari era o non era una guerra basata sulla coscrizione obbligatoria non sono mercenari non sono quattro gatti sono sei milioni mobilitati nella solo Italia quelli coinvolti nella guerra capite che anche quello che non è vero ma che è verosimile che sembra vero per un po' fa massa critica anche se gli storici militari ci hanno spiegato da decenni come sono andate veramente le cose ancora probabilmente al termine del doppio anniversario si saranno scritte più pagine su Caporetto che su Vittorio Vento anche perché di questo non vi ho parlato ma è uno dei miei temi ricorrenti non ci capacitiamo del fatto di avere vinto non ci va giù ci viene naturale avere perso ma non ci viene naturale avere vinto fa parte del complesso della sindrome dell'autofragellazione sputarci addosso è la cosa che ci riesce meglio anticipare gli sputi francesi o gli sputi britannici è la cosa più bella l'avevo detto io ma certo noi non siamo capaci di nulla è giù custoza è giù Lissa è giù Ado è giù Caporetto è Vittorio Vento ma Vittorio Vento non c'è mai stato ti saluti quindi l'8 settembre va benissimo l'8 settembre è la nuova Caporetto questa è la visione dell'anti-italiano uno dei grandi giornalisti del secondo repoguerra aveva una rubrica sull'espresso che si chiamava l'anti-italiano era Giorgio Bocca i ragazzi non diranno nulla ma i colleghi sì lui aveva fatto la resistenza da azionista nel partito d'azione l'anti-italiano cresce vigoroso ma anche con Piero Gobetti al me cresceva vigorosa la pianta dell'anti-italiano cioè la critica radicale ma figurarsi se l'anti-italiano non viene avanti da destra Mussolini nella Repubblica Sociale dice non mi meritavano ho cercato di fare di questo popolino un grande popolo un grande potenza non mi meritavano i tedeschi sì quelli sì e forse per questo fugge con un cappotto tedesco nel camion tedesco viltà ignominiosa perché bisogna saper perdere ma forse anche la vecchia idea che in fondo non tutti gli imperatori romani erano nati a Roma ci erano di africani ci erano di spagnoli l'impero non è uno stato nazionale è qualcosa di più e così in parte sono venuto a rispondere alla prima domanda ma diciamo qualche cos'altro ancora io ho già visto delle avvisaglie rispetto all'anniversario Vittorio Veneto ma bisognerà seguire strada facendo come andranno le cose certo è che quando il Presidente della Repubblica il 31 dicembre ha parlato della vittoria i mugugni si sono levati fino al cielo perché qualche d'uno ha colto che quella V non solo c'era la V di Vittoria ma forse forse quella V restava una maiuscola siamo forse fascisti no non siamo fascisti e allora ancora qui a parlare della Vittoria basta con la Vittoria io ho letto anche editoriali articoli di collaboratori importanti al Corriere della Sera che visibilmente sbuffavano è vero che quel collaboratore viene costruito dalle mie parti un clerico leghista quindi un clerico leghista può essere contrariato da una Vittoria del Paese Italia ma credo che anche buona parte della sinistra sbuffi rispetto all'idea della Vittoria io non so quanti di voi leggano tutti i giorni il manifesto ma io lo faccio da decenni e so che questo è l'atteggiamento appare retorico vedere la guerra anche da questo punto di vista sembra quasi che significhi mettere tra parentesi il massacro la strage per cui è come se questo giornale di sinistra invece che a Marx guardasse oggi maggiormente a Papa Benedetto e all'inutile strage la frase dell'inutile strage non è più cattolica è la chiave che oggi sembra dare bene a tutti dimenticandoci del fatto che poi ognuno se ci pensa bene magari non voi ragazzi ma di qui un po' anche voi ma sapendo un po' di storia ognuno ha la sua guerra giusta nel proprio passato o nel proprio futuro ha la resistenza se è un antifascista ha la rivoluzione francese se è un libertario c'è la rivoluzione russa c'è la rivoluzione degli Stati Uniti c'è la rivoluzione anticoloniale solo il non violento al 120% ha il diritto di teorizzare contro la guerra e la violenza ma chi è non violento al 120% l'anarchico ma per modo di dire perché la maggior parte degli anarchici in determinate condizioni e in certe stagioni non brevi hanno preso considerazione l'idea di usare la violenza sul giusto obiettivo non è che neanche gli anarchici quindi siano proprio speccatissimi non violenti quanto alla non violenza dei cristiani beh fa sorridere naturalmente chiunque abbia un minimo di ricordo delle crociate e di tante altre cose del genere ma non occorre neanche andare tanto all'indietro anche futuri obiettori della coscienza però erano stati cappellani militari nella prima guerra mondiale anche futuri obiettori di coscienza anche famosi parroci o famosi papi erano stati cappellani militari in grande guerra insomma ognuno deve contestualizzare l'apocalittico il religioso ha a tutti i carati ha il diritto di dire no alla violenza gli altri che vogliono storicizzare devono distinguere com'è proprio della storia Grazie.